amir pronto al peggio lo street album fuori a gennaio in tutti i negozi siamo qui in studio da 3d stiamo registrando ci sono i miei amici da killa kali young lee po di gente in giro dopo vi presento anche col tempo contato che sfoglio questa trama se portano a trovare anche cor veleno primo e grandi stanno di là stanno girando amir pronto al peggio gennaio 2010 state lì attenti ragazzi bella o amir pronto al peggio a gennaio 2010 è la prima cosa che faccio all'anno nuovo me l'ascolto subito in gamba bella amir pronto al peggio gennaio 2010 la botta allora una cosa fondamentale pronto al peggio anche prima è pronto al peggio di me son coperto la testa per paura vaffanculo bambino che piange puoi sentirne bella 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 Grazie a tutti